Sì, della terza commissione alla proposta di legge dei consiglieri bellettieri a Cito, Piro, Coviello e Sileo, che modifica la legge regionale del 2014 in materia di trasporto pubblico locale. La norma, che ora passerà all'esame del Consiglio regionale, proroga i contratti in essere per un periodo massimo di 24 mesi dalla loro scadenza, il 30 novembre 2019, e comunque non oltre il termine coincidente con il nuovo affidamento del servizio di trasporto. Soddisfatto è il primo firmatario bellettieri che mette in risalto la piena autonomia data agli enti locali al fine di far decidere ai sindaci le modalità dei detti rapporti. Il consigliere Pittella ha aderito, insieme al segretario regionale dei radicali Bolognetti, al Comitato per il No alla riduzione dei parlamentari. Non vogliamo assistere, senza reagire, alla trasformazione del ruolo di parlamentare in mero esecutore della volontà di pochi satrapi. Pittella e Bolognetti auspicano che al Comitato possano aderire nelle prossime ore tutti gli uomini e le donne, che come noi hanno a cuore la democrazia, lo Stato di diritto e la democrazia rappresentativa. Nuova vita per il fascicolo sanitario elettronico, a evidenziare quella che potrebbe diventare una opportunità per il rilancio di un servizio utile e che in Basilicata è in buona parte attuato, il consigliere di Fratelli d'Italia Viziello, che fa riferimento all'approdo nella conferenza permanente Stato-Regioni del decreto del MEF sullo stanziamento di oltre 208 milioni di euro che le regioni dovranno spendere da qui al 2021, occasione, sottolinea, da utilizzare al meglio. Il grande cambiamento che i lucani si aspettavano dalla nuova stagione politica si sta pian piano manifestando alla guida del presidente Bardi. Lo sostiene il consigliere Baldassarre, richiamando l'attenzione sulla ridiscussione con la Total degli accordi blindati stabiliti nel 2006 sulle compensazioni ambientali in 20 anni pari a circa un miliardo di euro e sul gettito delle royalties, definendo ciò una prima grande vittoria. Il reddito di cittadinanza si rivela una misura fallimentare, incapace di realizzare e soddisfare anche in misura limitata prospettive lavorative, un provvedimento che non ha inciso in alcun modo nel mondo del lavoro, una non riforma, una disposizione legislativa frutto di antichi retaggi assistenzialisti, uno strumento che non suscita fiducia in nessuno degli 11 mila beneficiari in Basilicata, tutti ancora alla ricerca di un lavoro stabile. Lo sostiene il consigliere Quarto, commentando i dati forniti dal rapporto Svimez 2019 che rivelano per l'Italia meridionale una realtà economica drammatica. Il presidente del Consiglio Cicala si è complimentato con gli autori del film Matera Plovdiv La retta via della cultura 2019 e si è detto compiaciuto per il contributo dato al progetto da Donato Vena, presidente dell'Associazione Lucana a Reggio Emilia, La Tarantella, Circolo Lucano e dalla regista Isabella Trovato. Il cinema, ha sottolineato, è un'arte raffinata che ultimamente ha determinato un interessante impatto economico sulla realtà locale e che sempre più si caratterizza come strumento di promozione territoriale. E' stato approvato alla unanimità dalla seconda commissione il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'ente Parco Naturale Regionale del Vurture. Nel corso dell'audizione del commissario dell'ente, Francesco Ricciardi, evidenziata la necessità da parte del Consiglio di approvare quanto prima lo statuto dell'ente per avviare la sua governance. Fondante, ha precisato Ricciardi, è la definizione del piano del parco per la vita, gli investimenti e le prospettive di sviluppo dell'area, un vero scrigno di tesori con notevoli possibilità di sviluppo. E' tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.